Il servizio di riflessione scolastica Gela non è ancora partito creando notevoli disagi. L'amministrazione comunale deve fare in fretta. Il grido d'allarme giunge dalla Filcams CGL che questa mattina, dinanzi all'assessorato alla pubblica istruzione, ha escenato una protesta. Ci hanno sempre detto che si iniziava e invece oggi siamo al 13 e ancora non sappiamo quando inizia il servizio. E dunque così facendo le lavoratrici rimangono a casa. In effetti non c'è solo un problema delle lavoratrici che è gravissimo perché parliamo di lavoratrici che in effetti vivono in un'estremo situazione di povertà ma soprattutto questo incide dal punto di vista civile in questo paese dove le mamme che lavorano e le famiglie che sono impegnate non riescono a poter lasciare i propri figli nel tempo prolungato. Quindi con un grande disagio per circa 1600 famiglie che vorrebbero soffrire di questo servizio e addirittura c'è un altro effetto ancora che penalizza ed è grave che non essendoci il tempo prolungato le scuole non possono chiamare i docenti a lavorare perché non essendoci i doppi turni non vengono chiamati. Quindi è una situazione grave e non mi pare, possiamo esprimere un giusto negativo su come è stata condotta. Bisogna fare in fretta e negato hanno detto il diritto alla sopravvivenza delle famiglie e delle lavoratrici che da sempre hanno svolto il servizio. Noi veramente ogni anno pensiamo che è l'anno migliore, che tutto dovrebbe andare bene ma quando pare invece col tempo ci ritroviamo a pensare che ogni anno va sempre peggio. Non era mai capitato che noi iniziassimo, cioè che ad oggi al 13 novembre non sappiamo neanche quando e se inizieremo. Ogni anno si ripete la situazione, noi facciamo di tutto per iniziare, non diciamo i primi di ottobre ma quando meno a metà ottobre. Quest'anno poi è stata esagerata, siamo arrivati a metà novembre e il 15 dicembre sicuramente finirà la menza scolastica perché iniziano le vacanze di Natale, quindi non sappiamo, notizie ogni giorno veniamo, quasi un giorno sì, un giorno no, qua al Comune, ci dicono è tutto pronto, è tutto pronto, però poi all'atto pratico non è pronto. Quindi tutte le ragazze telefonano i rappresentanti sindacali, vogliono avere delle delucidazioni, noi diciamo no, no è tutto pronto, stiamo per iniziare, invece non succede così.